Ciao Belve, io sono Guala, io sono Matteo, io sono Rudolf e io sono Luke, benvenuti al Carmageddon! Ok Belve, in questa puntata riutilizzeremo la V70, la Volvo della scorsa puntata che abbiamo trasformato in un caminetto e che cosa faremo ragazzi? Parlacene a Rudi! La taglieremo a metà! Incredibile ma vero! E per farlo ci serviremo del mio miglior amico, il flessibile e tutta la nostra forza brutta! E infine come da regolamento io mi occuperò del test drive dove l'auto dovrà completare un chilometro in totale autonomia Quindi Belve, 3, 2, 1, parte il test! Ciao Belve e benvenuti in questa nuova puntata In questo episodio abbiamo preso la Volvo V70 usata nello scorso video e abbiamo deciso di tagliarla a metà Dopo giorni di ricerche e vagonate di ore spese sui libri di matematica abbiamo fatto una sconcertante scoperta Per inderogabili leggi algebriche la metà di 70 e 35 Immaginiamo cosa state pensando Davvero? Fa 35? Sì Belve, la metà di 70 e 35 All'inizio pensavamo semplicemente di tagliare una Volvo V70 a metà ma eravamo ciechi Alla luce di questa scoperta matematica tutto fu più chiaro Ciò che era iniziato come un'innocente testa del Carmageddon era in realtà qualcosa di molto più incredibile Stavamo dando vita ad una nuova auto La Volvo V35 In questo momento il buon Guada sta smontando una portiera Dobbiamo smontare tutte le portiere Matteo sarebbe la tua forza brutta Forza brutta by Matthew Matteo è una garanzia Come siamo messi qua? Per me C'eravano tre uomini per fare il lavoro di Matteo Vai Matthew Guardate C'è un catarifrangente Ha già un assetto più sportivo Sono robuste le Volvo Vai Matthew Puzza di Questa roba è tossica Quella non è polvere di ferro È la polvere di ferro E i precedenti proprietari Adesso Rudy vi mostrerà Un uso alternativo del compressore Meraviglioso A questo punto dopo il taglio Matteo deve deformare Vai ragazzi Vai 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 Stiamo utilizzando gli occhiali in un punto in cui non servirebbero Siamo in pesi Potendo del sovrappeso Volvo fa delle macchine impossibili Volvo versus Matteo Guarda guarda Allora tre Due Puri fuori Uno Vai ragazzi Abbiamo scheggini dentro Comincia a prendere cosa Da fine in fine Stacchiamo questo Poi dopo Il Barbie giù No 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 Stai subiti vai Per motivi di sicurezza Togliamo tutte le schegge L'ho in aria auto Coraggio Incapertiamola Rilleria Vero Attacchi su Aspetta Stiamo per tagliare la macchina a metà Ormai è incapertata Incapertata Ammollato 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 Gente da casa Ammollato Ok procediamo con l'ultimo taglio E' finita No ci siamo Ci siamo Aspetta Deve andare giù questa E su questa Se no non esce la Sta fluttuando Sta fluttuando Bellissimo Scendi 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 Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai Via Stiamo per fissare le quattro ruote supplementari Tra poco capiremo esattamente di cosa stiamo parlando Da casa vi chiederete dov'è il serbatoio Se ovviamente abbiamo tenuto solo la parte anteriore Ma c'è depressione, pressione I due tubi entrano dentro a questa piccola tanichetta Tutto sull'anteriore E di conseguenza si giri la chiave Un lavoro di fino Stiamo bullonando Questa struttura è una struttura a quattro ruote snodabili Che ci permetterà di fare i traversi Grande Dopo una sensazionale scoperta matematica E una divisione in colonna di flessibile La Volvo V70 è pronta per scendere nell'arena del Carmageddon Con una nuova divisoria ed entità La Volvo V35 Questa mezza meccanica svedese Ultra cabrio A due ruote e quattro ruotine È finalmente pronta per il test chilometrico E per sfidare le leggi della gravitazione stradale Fatta questa doverosa premessa Lei è Angelica Nonostante le modeste origini Angelica ha sempre avuto un amore innato per lo studio Per tal motivo ricordiamo nella sua biografia Importanti sacrifici Per riuscire ad avere accesso ai precettori più altolocati dell'epoca Come ad esempio Biagio Pelacani Nel 1423 col supporto dei Gonzaga Fondò la Cagio Iosa Con cui introdusse un metodo innovativo di studio So che non mi state ascoltando Visto l'effetto ipnotico di questa topa disumana E vi capisco Infatti questa non è la storia di Angelica Ma di Vittorino da Feltre Noto umanista Approfittando della vostra ipnosi topica Al vostro risveglio metterete like a questo video Supporterete il Carmageddon Andrete a topa Vi farà bene E detto questo partiamo con il test 3-1 Vai guada Per riuscire ad essere Sì, 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 sì. I can't make it down, I can't make it down I'll get back to sit and jump around, jump around I'll kill you, I'll kill you Terza, terza con le mete La fratellanza Le muscolosissime chiappe di Matteo La sua metà I can't make it down, I can't make it down So get out your seat and jump around, jump around Jump around, jump around Jump around Jump up, jump up and get down Jump, 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 jump up Jump, 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 jump Ok Belvin, in questo video la V70 si è fatta veramente valere Ci siamo prefissi di fare un chilometro in totale autonomia Non solo ce l'abbiamo fatta ma a un certo punto siamo anche riusciti a fare i deficienti Io mi sono anche fatto male e guado ovviamente non si è fatto un c***o Perché ormai queste sono le strano Nooo Guardare questa macchina è stata un'emozione veramente veramente importante Sembrava di essere su una moto ma era una macchina Abbiamo impennato, l'abbiamo messa di traverso, l'abbiamo messa di traverso, l'abbiamo messa in traverso Sai cosa mi ha un po' deluso della struttura con le rotelline lì La prossima volta ci riproviamo con le rotelline un po' più performanti Torneremo, fidatevi di noi Mi raccomando Belvenor, rifate a casa ciò che avete visto perché non sembra ma è veramente pericoloso Mi raccomando ragazzi mettete like, commentate, condividete Fatelo vedere anche al vostro trisabolo, a chi volete tanto, non c'è problema E seguiteci su Instagram, questo è importantissimo perché facciamo un po' c***o su Instagram E a questo punto ricordate Se pensate che la vostra auto sia degna di partecipare al Carmageddon Se volete disfarvene C'è vecchia, brutta e puzza Mandateci le foto e le info su di essa Perché potrebbe essere scelta da noi Per il Carmageddon Scusi stretti, va bene Siamo tutti di profilo per starci dietro Scusi così Ok Belven, questa puntata ho riutilito Aiuto, mi alza Svegliari Peso 200 kg Impossibile Romperi Utilizzeremo il quinto personaggio di Carmageddon Il mio amico flessibile E infine, come da regolamento, io mi occuperò del test drive Dove l'auto dovrà totalizzare un chilometro per strada È studio alla linea Non è studio alla linea Linea alla linea Linea all'UK Studio all'UK Studio alla linea Ora se non c'è Non farei farlo così veloci Ok Belven, questo è un attimo di crash mentality Come da regolamento? Quanto l'auto dovrà sostenere un chilometro nella totale autonomia Che cazzo stai facendo? Guardate, mi congela Qua sotto mi congela Non le stalla E infine, io mi occuperò del test drive Come da regolamento dove l'auto dovrà totalizzare Cazzo stai facendo?